Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, ci sono due chilometri di coda per veicoli in avaria tra BV1 Variante e Sasso Marconi in direzione di Bologna. Sullo stesso tratto, sempre verso Bologna, un chilometro di coda per lavori. Carreggiata opposta, coda per traffico in uscita a Firenze Sud. Ci spostiamo sulla 11 dove troviamo rallentamenti e code per traffico tra Prato Ovest e BV11A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Sulla 12 un chilometro di coda per lavori tra Versile e lo svincolo Lucca-Viareggio in direzione di Rosignano. Arriviamo ai Fipili, code a tratti, per traffico tra la Strassigna e Firenze Scandicci verso il capoluogo. Carreggiata opposta, coda in uscita a Firenze Scandicci. Per il traffico urbano di Firenze, traffico rallentato sui viali di circonvallazione. Rallentamenti in particolare in zona Porta al Prato, Fortezza, via Bolognese e viale Marco Polo. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!